Hai voglia di far vedere, di dimostrare già un po' bloccato in questa battaglia, se ne accordo? Sì, può essere, perché diciamo che sono arrivato con tanta voglia di dimostrare quello che facevo in Verona, ma penso che ho sbagliato, devo andare più piano, questo anno spero di fare quello e di iniziare bene per questa squadra.